Buongiorno a tutti dal Milanista Paccio, siamo in un nuovo video, improvvisato, ma lo devo fare, ieri Champions League, Atalanta 4, Valencia 1, da Milanista, solo applausi per questa squadra, Atalanta, una rivelazione della Champions League e si sta riconfermando in nel campionato italiano. Certo, parliamo di chi ha, per noi milanisti e interisti, vedere l'Atalanta nel nostro stadio, perché è la strada del Milan e nello stadio dell'Inter un po' può far rossiare, ma non c'è niente da togliere, questa Atalanta è mostruosa, vince in casa, chiamaci casa, perché quella è la casa nostra, però con rispetto per l'Atalanta ha fatto un'impresa, 4-1 all'andata vuol dire quasi non tutto, ma un quarto di piede, cioè verso i quarti finali di Champions League, al primo anno in Champions League, è una cosa incredibile, penso mai è successa una cosa di genere a qualche scuola italiana, potresti dire è successa a qualche scuola italiana, ma a una scuola italiana non è successa mai, scordetemi se sbaglio, però se sbaglio è da anni che non succede, quindi applausi a questa Atalanta, 4-1, gli ritorno che certo sarà difficile, ma è anche vero che Valencia dovrebbe vincere 3-0, 3-0, dovrebbe vincere, o meno, con 3 gol di scarto, perché se finisse per esempio 2-1 passi alla Atalanta, 2-1 passi alla Atalanta, 3-1 passa alla Atalanta, 4-1 passa in Valencia, anzi no, schiacciavo, 4-1 passa e si vanno ai supplementari, quindi dovrebbe, se scegna il gol dovrebbe vincere 5-1, oppure magari 5-1, perché se fai il secondo gol passa l'Atalanta con 5-2, perché ha fatto due più gol di fuori gas, quindi è quasi un quarto, se non un piede, ai quarti alla Atalanta, quindi applausi a questa Atalanta, merita, merita davvero la mia estima, anche se abbiamo presso in Campionato 2050, per me l'Atalanta è una delle squadre che mi sta piacendo, non l'odio, anzi mi piace questa Atalanta, in Campionato, come sta andando, è una sorpresa. Comunque il mio finisce con l'Auro, fare un piccolo video dedicato a questa Atalanta, e speriamo che riesca a continuare sempre più avanti in questa competizione, noi ci vediamo, ci vediamo domani per il pre partita, domani sarebbe venerdì, ci vediamo per la partita di Milan, di Fiorentina Milan, non bene e male, forza Milan, e in Europa League, scusate, in Champions League, forza Atalanta.